Riattiviati dopo le feste! Che favola al Natale! Cenoni con famiglia amici! Mmm! I piatti leggeri della mamma! E l'unico esercizio fisico è aprire i regali! E ora mi sento gonfia! Così! Tra le mie buone abitudini per ripartire! Activia! Con il Bifidus Acti Regularis che favorisce l'equilibrio della flora intestinale. Provalo anche tu! Grazie a tutti!